Demone alleato ucciso. VARONE DEMONIACO NEMICO GENERATO OSSESSIONE DEMONIACA CONCLUSA OSSESSIONE DEMONIACO OSSESSIONE DEMONIACO OSSESSIONE DEMONIACO OSSESSIONE DEMONIACO OSSESSIONE DEMONIACO Vendicatore. Runa demoniaca in arrivo. Runa demoniaca generata. Non più in testa. Revenant nemico generato. Vendicatore. Spegnimento. A metà strada per la sconfitta. Runa demoniaca in arrivo. Revenant nemico in testa. Runa demoniaca in arrivo. Tocchia uccisione. Osmosi attivato. 10 uccisioni restanti. Doppia uccisione. 5 uccisioni restanti. 1 uccisione restante. Raggiunto limite punteggio. Vittoria. 1 uccisione restante.